Queste immagini ci arrivano dalla parrocchia di Poggio Renatico che ha celebrato la solennità del Corpus Domini con la messa e la processione con il Santissimo Sacramento. Il parroco Don Daniele Nepoti ha presieduto l'Eucarestia in una casa del paese tra i campi di grano alla presenza di tanti fedeli e dei bimbi che hanno fatto la prima comunione. È seguita la processione portando il Santissimo per le vie di Poggio Renatico accompagnata dalla banda musicale di Monzuno. La conclusione è avvenuta nella piazza del paese con la benedizione con il Santissimo Sacramento davanti alla abbazia lesionata dieci anni fa dal terremoto che nel maggio del 2012 colpì l'Emilia Romagna.